buongiorno ok volete accomodarvi fuori buongiorno 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 nu Dovete aspettare, gentilmente. Va bene, sì, non è un problema. Mi dite il nome. Questa è la lista di aspettare. Grazie. Per tre, puoi scrivere sulla lista. Ah, ok, ok. Wow, true. La tua parte è molto grande, ragazzi. Ma cosa succeduta questa? Oggi, che c'è il nome è mai stato fatto. Oggi, è stato molto spazato. Sì, 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 sì. 이태리 신문에 나왔대요, 선생님. 이태리 신문에 저희가 나왔대요. 이태리 신문에 저희가 나와서 되게 유명해졌대요. 러블리 신문에 지금 Non è tanto, non è tanto la pubblicità che... Ma non c'è. Ma veniva a succedere il fattore. Ma poi, come è solito, è ricoporzionale. Questo è un po' di più. Quindi sono molto più. Non lo so. Sono veramente giornalista, ma è un po' di più. Quattro. Questo è un risultato. Però mi ha detto, mi ha detto, i miei macicli, questo non è tanto buono. Questo è il resto, è buono, cosa. Non ho bisogno. Consigli un cibo, i miei macii, la prima. Il cibo, il cibo, il cibo, il cibo, il cibo. Non so niente di quel tempo, ma è sì, quindi, che ci sono altre persone, già davanti. Ma magari… mi dici il cognome? Il vario. per tre Ma che si vedi... Non si sa bene, non si sa bene! Sì! Tu viene già da m'acquilla! Sì? Tu saccato, piacere di fürs Algo v viene inferno! Certo? Sì! Io ti le vogliono saperemo non vengaremo. Sì... Tu rigol Recovery? Sì! Si! Sì! Sì! Le cosa... Isi! Sì! Così! Beh! Questo è un altro altro obviousof compulsivo! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Gratia mille! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Buon giorno! Alla którzy già ven STUDMI Oh, oggi? я inizio a tutti! Thanks! Consegu health! Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Oggi è venuto, però. Ah, che è importante. Sì, sì. Sì, è venuto 3 giorni qui hanno fatto. Cosa è? Allora, allora. 5 persone ok il cognome ito ito ok maccaulino albano ok 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 No possiamo bere! Ah... ...dicci... 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 ...comi si chiama quello bianco? ...e... ...maccoli... ...due maccoli? ...ok... ...dengo subito... ...maccoli? ...dicci... 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 ...perfetto. Posso vedere altri due? ...va bene anche questo bicchiere? Altri due? ...sì, sì... ...l'abbiamo già preso... ...va bene anche questo... ...ok... ...dicci... 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 ...maccoli... ...è... ...maccoli sarebbe una bevanda maccolica a base di... ...riso... ...100... ...siamo in vista d'attesa qui... ...perfetto... ...grazie mille. Posso vedere questa cosa? ...è... ...una bevanda alcolica a base di riso... ...è molto dolce... ...grazie... ...prego... ...prego il primo maccoli? ...grazie... ...le porto l'altro... ...è una bevanda alcolica a base di riso... ...è molto dolciastro... ...è... ...potremmo avere... ...quelle cose del minuzione alcolico... ...permesso uscire prima? ...certo... ...due bicchieri? ...è solo quello come tipologia... ...no... ...mi dispiace... ...certo... 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 ... 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